E che sto via Veneto io? Io sto alla passeggiata archeologica che è anche più comodo, sa? Sto a Cilia prendo la metropolitana e sto arrivata ci abita pure un'altra amica mia, Vanga che sta pure l'entosto io perché io con quell'artre? Io con quell'artre non c'ho niente a che spartissa con quell'artre dormono sotto l'archi a Caragalla ma che te che credi? Io c'ho una casa mia, sa? con l'acqua, con la luce, con il BB gas con tutte le comodità, non mi manca niente c'ho pure il termometro questa qui, la vedi? questa qui sotto l'archi non c'ho mai dormito eh, una volta due lo so non è una casa bella come questa ma a me mi basta, mi piace Mannaggia io lo so chi è lei eh, lo so lo posso dire? eh? lo posso dire? Alberto Lanzari io gli ho visti tutti i suoi film, sa? molto carini anche l'ultimo quello che lei sta con quel costume con tutte quelle piume lì arriva arriva Vittorio sgama fermi tutti e invece che invece era sua figlia non ha fatto lei lei è bello come la sua casa e mannaggia e mannaggia ma mo ma mo chi ci crede se lo racconto, eh? giusto quelle mi dicono che sono una pallonara quelle disgraziate l'altro po' non ci credo manco io domani lei mi fa una cortesia eh? mi deve dare una fotografia e invece scrive Gaviria è stata qui da me Alberto Lanzari anzi no Gaviria Ceccarelli eh? Ceccarelli è stata qui da me me lo fa? eh? me lo fa? grazie e adesso maniamo eh? e mangia pure lei un bel pezzo di petto di pollo gli passano tutti i cattivi pensieri eh?